Dunque, avanti tutta per il ritorno di Giuseppe Rizzo, mediano aggressivo classe 91. Rizzo era prodato a Pescara ad un ancora 22enne gennaio 2013 in A. Una stagione e mezza sino al 30 giugno 2014, in totale 34 presenze 11 nella massima serie, 23 in B. Poi un lungo girovagare tra cadetteria e terza serie, dopo il triennio di Catania, il trasferimento lo scorso anno alla Triestina a 35 gettoni, cui il centrocampista siciliano è legato sino al 30 giugno 2022. Rizzo vuole tornare a Pescara dal club Giuliano. Non ci saranno resistenze, firmerà un biennale. In B. Rizzo ha collezionato 183 presenze con Regina Pescara, Perugia, Vicenza e Salernitana. In C. 105 con Regina Catania e Triestina. Busellato richiesto dalla Cosenza, senza buon'uscita si potrà fare. Se parte il calciatore veneto arriverà un altro centrocampista, oltre naturalmente a Rizzo. A tal proposito, su Derisio Pupillo di Auteri non ci sono sviluppi. Sull'ingaggio c'è distanza. Il classe 91 è legato al Bari fino al 30 giugno 2022. Il neotecnico Mignani potrebbe tenerselo stretto. Reparto avanzato, c'è bisogno di un esterno mancino, la priorità, ma anche di una punta centrale che attacchi la profondità con caratteristiche diverse e complementari rispetto a Ferrari. Come esterno mancino piacciono Sarno della Triestina, classe 88, e Giuseppe Borello, classe 99, di proprietà del Crotone. Il primo è un usato sicuro, quattro promozioni in B, con Lanciano, Entella, Foggia e Padova. Il secondo, Borello, ex Provercelli e Cesena, ha caratteristiche analoghe. Brevi linee o mancino di qualità, non proprio una novità. Già trattato infatti lo scorso anno, la vigilia dell'ultimo campionato di B del Delfino. Al momento c'è il veto del DS dei Calabresi Ursino, che al telefono ci ha testualmente detto «Per ora Borello non è sul mercato». Difficilmente arriverà un secondo alle spalle di Di Gennaro. Sarà probabilmente il 19enne Sorrentino che giovedì partirà a titolare in Coppa Italia contro l'Olbi all'Adriatico. Sempre più alte le possibilità che inzitaresti. E che venga ripescato Antonio Balzano, jolly difensivo, utile sia da centrale di destra della difesa 3 che da laterale di spinta su entrambe le fasce. Infine manca, come detto, una punta centrale che attacchi la profondità con caratteristiche diverse e complementari rispetto a Ferrari. A poco meno di due settimane dall'inizio del torneo mancano ancora diversi elementi basilari.